I vecchi maschi che oggi, come da 28 anni a questa parte, lavorano per organizzare il raduno di Pontina e accogliere nel migliore dei modi le migliaia di leghisti provenienti dalle regioni vicine e lontane. Matteo e Tocchiana, ora voi, il vostro pensiero! Ciao a tutti! E sosteniamo il Capitano! Sempre! E sosteniamo il Capitano! E sosteniamo il Capitano! E sosteniamo il Capitano! E sosteniamo il Capitano! Capitano! Sosteniamo il Capitano! lì c'è me lì lì le ho i le pregoi c'è me lì ci fanno la pentempo che tu Corsi mille soli mai fatti, traci un suono di crudo lamento. Corsi mille soli mai fatti, traci un suono di crudo lamento. Corsi mille soli mai fatti, traci un suono di crudo lamento.